1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nove, già, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, calcio, 2, calcio, 5, 6, 7, 8, mi separo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. allora forse non mi hanno specificato l'uscita quando noi arriviamo da questa inclinazione facciamo la spazzolata lenta 5, 6, 7, 8 poi inizio 1, 2, 3, A 5, 6, 7, A ok? quindi l'uscita è lenta e poi velocizziamo va bene? riproviamo l'ultimo pezzo l'ultimo pezzo base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 veloce 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 ok? quindi lento quando mi dico il piede e poi veloce quando faccio il passaggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 finiamo con un bel casquet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 il casquet finale guardate il casquet finale è semplice state sempre vicino alla donna aprite all'1 e al 2 il movimento che ho sentito prima torsione e la donna mi accarezza con il suo piede mi stuzzica? mi stuzzica? no, no, no ci siamo? proviamo? proviamo questo movimento? allora 1, mappi il piede 1 al 2 non state vicino perché se no non riusciremo a guidare questo movimento al 2 faccio questo allora non si butti allora devi solamente fare la torsione torsione e nel frattempo mi accarezza mi stuzzica? mi stuzzica? va bene i tempi devo stuzzicare i tempi parecchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Grazie a tutti.